per la prima serie si preparano in uno lorenzo gaino in due filippo fassina in tre andrea salvadori in quattro mattia vianello in cinque filippo biasini in sei giovanni carraro in sette nicola lorenzetto e in otto giulio barbato e dunque sono sul podio il le ragazze dei cento stile libero femminili lei re casarina al bronzo giorgia biondani all'argento e rimpegg gallagher alla medaglia d'oro patos ronzani uno zero otto settantasei si aggiudica la seconda serie rimane Omar Comina al comando della classifica provvisoria con la classifica provvisoria classifica provvisoria con la classifica provvisoria Grazie.